Alle mie spalle c'è il sasso che simbolicamente questa mattina è stato posato a Cascina Don Guanella per quanto riguarda la costruzione dei nuovi laboratori. È uno spartiacque, è l'inizio e soprattutto anche la continuazione di un lavoro iniziato parecchio tempo fa grazie all'opera di Don Agostino Frasson. Cascina Don Guanella, progetto nato nel 2014 grazie al contributo di 400 mila euro erogato da fondazione Vodafone, presente con i suoi dirigenti e le altre autorità, fra cui il prefetto di Lecco Liliana Baccari, è cresciuta nel tempo con la serra e la stalla, la presenza di operatori qualificati oltre ai ragazzi della comunità per produrre prodotti locali sostenibili, un vero e proprio disegno di agricoltura sociale per il quale i nuovi laboratori e i magazzini che si andranno a costruire costituiranno il passo successivo e fondamentale per raffinare la produzione. È una giornata importante perché attraverso questo evento si dà il via a delle attività importanti per la nostra comunità. Fino adesso abbiamo seminato, adesso si tratta di far sì che quello che abbiamo seminato abbia il suo frutto. Quindi i laboratori sono luoghi in cui noi trasformeremo i prodotti che produrremo con la terra e l'allevamento degli animali. Oggi si parla molto sul tema del lavoro. Abbiamo fatto in modo attraverso questo progetto di dare una risposta concreta a questa urgenza che c'è sul nostro territorio e a livello mondiale. Penso che il mandato che il Papa ci ha dato di dare a persone che sono in difficoltà una casa, una terra e un lavoro, qui si testimonia che si possa attuare. Per questo lavoro e non solo, per tutta Cascina Don Guanella fondamentale, il contributo e l'aiuto e la vicinanza di Fondazione Vodafone? Oggi abbiamo visto quanto le fondazioni siano in grado di sostenere questi progetti. Noi abbiamo avuto veramente, non dico la fortuna, ma un segno provvidenziale attraverso questa fondazione che là dove si lavora per il bene comune le risposte vengono, le risorse si trovano. È importante, come diceva Don Guanella, fare bene il bene.